Siamo con Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni. Quali sono le novità per questa ottava edizione? Un'edizione che a Collisioni sta diventando sempre più nazionale, prova ne sono i grandi partner che stanno aderendo a Collisioni da tutta l'Italia. Quest'anno dalla Basilicata, alla Bruzza, alle Marche, al Fiume di Venezia Giulia, alla Sicilia che sta aderendo proprio in questi giorni. Quindi una manifestazione che sta sempre più diventando, anche grazie all'interesse crescente di altri territori che vorrebbero ricreare una formula Collisioni nelle loro regioni, una grande opportunità anche per i nostri prodotti piemontesi, perché attraverso questi gemellaggi e anche attraverso il brand di Collisioni cominciamo a farci conoscere un po' in tutta Italia. Da un punto di vista del programma credo un'edizione storica, con la partecipazione oltre che di Elton John, dei Modà, dei Negromaro, di Mengoni, di tutti i grandi artisti che saranno con noi, da Luciano Ligabue a Claudio Baglione, a Samuele Bersani, a Emma. Quindi davvero un'edizione difficile da raccontare in un'intervista per la ricchezza del cast che vi invito ad andare a conoscere su www.collisioni.it. Un'edizione che si chiama Strangers, quest'anno in onore di David Bowie, un 2016 che ha visto la dipartita di molti artisti, a quali Filippo Taricco è più affezionato? Per versi diversi a tutti, non potrei scegliere tra Prince e Bud Spencer, perché hanno rappresentato tutti e due dei momenti della nostra vita fondamentali, della nostra crescita, dei momenti diversi naturalmente, però a tutti è stato un anno sicuramente in cui l'arte ha perso moltissimo. E' paradossalmente un anno in cui invece c'era un grande bisogno di artisti, un grande bisogno di apertura mentale. Vediamo l'atrocità che sono successe quest'anno, dalle bombe alle contestazioni, alla tragica strage di gay che dimostra anche un clima culturale molto pesante verso la diversità, una paura verso lo straniero. Proprio per questo abbiamo voluto dedicare l'edizione 2016 di Collisione a questo tema, che è un tema importante, cioè Strangers è colui che, lo straniero è colui che non conosciamo ancora, ma è anche una grande opportunità, perché la canzone di Bowie si intitola in realtà Strangers When We Meet, cioè tutti coloro che si conoscono sono stranieri, però per conoscere nuovi amici, abbracciare nuove culture, aprire la mente a nuovi contenuti, in realtà bisogna sempre sperare che rimanga qualcosa ancora di straniero per poterlo imparare, per poter conoscere. Se già tutti fossero vicini di casa avremmo molto poco da imparare, molto poco con cui aprirsi la mente. Un po' un festival come Collisione è questo, cioè è un luogo in cui arrivano personaggi come Svetlana Alexievich dalla Russia, come Michel Houellebecq con il suo portato storico dalla Francia, ma con tutto il suo vissuto anche con l'estremismo islamico, i problemi che ha avuto la sua amicizia con Charlie Hebdo, personaggi molto diversi tra loro, che però si raccontano al pubblico e raccontandosi diventano un po' meno stranieri, si confrontano alle esperienze in un festival culturale e confrontandosi in realtà capiamo anche le ragioni dell'altro. Io credo che un altro titolo poteva essere le ragioni dell'altro di Collisione di quest'anno, cioè cercare lì, prima di giudicare, prima di spaventarci, almeno imparare a conoscere. Io credo che leggere, ascoltare canzoni, andare al teatro, andare al cinema sia un grande antidoto per questo, per la paura istintiva che abbiamo verso l'altro, che molte volte in realtà è un condizionamento sociale. Quando scopriamo che in realtà dietro il velo di quella donna che viviamo in panetteria o dietro il trucco di quel game che vediamo uscire da una discoteca c'è una persona che ha gli stessi nostri problemi, magari un po' diversi, ma in realtà identici ai nostri, nei sentimenti, nelle aspettative di felicità e in tutto, e quando facciamo quello in realtà rompiamo dei muri e l'arte è un fondamentale antidoto verso la paura.